A tutti da Salone, eccoci qui sul campo del Santa Lucia, Fonte Nuova, ciao Sandro, ecco qui abbiamo tra i tanti ospiti il grande Cobra, Sandro Dovagnieri, ciao Sandro. Buonasera. Eccoci qua, tu per le, diciamo, quando c'è da dare per verificenza sei sempre presente, ti vedo e ti seguo. Credo che sia una cosa importante, quando uno di noi calciatori veniamo invitati a questa situazione, lo possiamo veramente prendere il cuore, perché è lo che faccio, è lo che faccio. Ecco, io ti ringrazio, vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Io saluto tutti, tutti i ragazzi, tutta la polizia, la guardia di finanziamento, tutti i genitori, tutti i genitori, tutti i genitori della Roma, con la speranza che stasera... Si raggiunga l'obiettivo, abbiamo 2-0 per... Tu già mi hai preso il risultato una volta, il 2-0, ecco, il 2-0, io testimone ho anche il video che ho messo, ecco, Dzeko, Nangolan, la partita che andrà stasera. Speriamo che aggiungiamo, che qua stiamo in più a tutti. Esatto, grazie, ciao Sandro, ciao a tutti.